Un applauso alla nostra Manola Grazie, grazie affinitamente e complimenti all'organizzazione di questa bellissima serata Allora noi siamo ospiti in questo meraviglioso contesto canoro e siamo una scuola di ballo, la New Fashion Joan Dance, con sede a Morro Valle Questa sera vi proponiamo dei brani, dei pezzi dei nostri atleti non sono solo ballerini ma sono anche atleti perché sono grandi competitori tra loro ci sono anche dei campionissimi, poi vi sveleremo il tutto e iniziamo con dei ragazzi che sono proprio di Porto Sant'Empilio chiediamo se gentilmente possiamo spostare appena appena la console con il tavolo che abbiamo bisogno di un pochino di spazio Allora ci troviamo qui a Porto Sant'Empilio da tanti anni presso la palestra Romance perciò vi invitiamo a provare, è gratuito dal 23 settembre potete venire da noi, provare salsa, merengue, baciata, liscio, tutto quello che vi piace e poi decidete di trascorrere un po' di tempo con noi all'insegna del ballo Allora ci siamo, possiamo procedere e invitare sul palco la prima coppia di ballerini Sono di Porto Sant'Empilio, sono due fratelli meravigliosi, due giovanissimi talenti perciò direi di accogliere con un grande grande applauso Diego e Letizia Divisi Sono stati promossi in classe internazionale, danze caraibiche attenzione attenzione che si portano via tutto Per quello chiedevamo un pochino di spazio in più E allora, per voi Diego e Letizia in un bellissimo show di Bacciata Buongiorno a tutti 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 Buongiorno a tutti